In cambio di regali come bottiglie di vino pregiate o biglietti per le partite di calcio di Serie A, rilasciavano certificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o agevolavano gli imprenditori nella risoluzione di problematiche dovute agli infortuni sul lavoro. Sono 16 gli indagati nell'operazione della Polizia di Piacenza coordinata dalla Procura. All'alba le perquisizioni nelle province di Piacenza, Parma, Lodi e Pavia. Le indagini erano partite l'estate dello scorso anno quando i poliziotti arrivati in un'officina per un infortunio sul lavoro si erano resi conto che il proprietario aveva già risistemato il luogo dove era avvenuto l'incidente impedendo di fare eseguire gli accertamenti. Attraverso le intercettazioni telefoniche sono emerse le condotte illecite dei dipendenti del Dipartimento di Sanità Pubblica e Antinfortunistica dell'Asla di Piacenza, di alcuni imprenditori e liberi professionisti accusati di corruzione, concussione e falso in atto pubblico.